Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere i miei errori Eh, sono veramente imbarazzata Comunque Però, sì, c'è un modo da divertirsi Però ho impegnato tantissimo Per fare questi video Iniziamo subito Devi Deventare Cioè, se non l'avete messo John Lash E lei non l'ha messo, start Fami start E' staccato Guarda La deve start Posso? Hai messo, start L'hai messo? Ok, tutti i miei querisci E benvenuti in questo nuovo video Oggi giocheremo ad Animal Crossing E Aspetta cosa che devo fare Mamma mia E ora come si fa Buongiorno E cosa devo fare ora? Valuto? No No Giusto? Ok Ho capito, ho capito, ho capito Cosa vuoi dire? Posso inserire? Ok, ho capito Ok Allora No, secondo te non si annoiano Vabbè Accelerio Cioè, no Bu Vabbè Ce l'hai preso, Sofì Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai In colori Una forbicina Una forbicina Tu l'hai preso Tu l'hai preso Tu l'hai preso Eeeh 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 Fatto ragazzi Allora Eeeh 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 Vedi che si vede Fa sta accelerato Allo stesso Si vede Tu fai così qua Eeeh Non lo puoi tagliare Con la parte Con le gambe Sono una Vecchia Eeeh Sono passata Da qui Cioè ragazzi Oggi andiamo a fare L'ho fatta tour Eeeh 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 Saluto Vi fallo Eeeh 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 Degli sbabbè sport Poi Abbiamo trovato la colla Eeeh La colla Eeeh 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 Eeeh